Il gruppo Modenese Scienze Naturali, un'associazione senza finalità di lucro che promuove entomodena questa manifestazione e questo meeting fra entomologi che provengono da tutta Europa da una trentina d'anni. Ospitiamo una mostra a scambio e un meeting fra forum che si occupano di entomologia. Entomorum è un forum in Inter di appassionati di insetti che li allevano, li scambiano, li osservano, ma di solito ci incontriamo su internet. Per noi entomodena è una specie di festa che c'è due volte all'anno in cui se ne approfitta per incontrarsi tutti quanti. Pescare con la mosca artificiale vuol dire costruire l'interpretazione di quello che sta mangiando il pesce in quel momento sull'amo. I pesci aggrediscono le code dell'insetto, le ali, le zampette, la silhouette e tutto. Quindi non è tanto importante creare qualcosa identico all'originale, ma piuttosto similare. Sono un sistemista informatico, mi occupo di sicurezza informatica bancaria e sono il fondatore di Entomon, un forum, un progetto scientifico entomologico che compie un anno di vita. Entomodena rappresenta un punto di incontro per tutti noi che coltiviamo l'hobby e la passione dell'entomologia. Noi abbiamo fatto questa mostra di formicai il cui scopo è quello di far vedere come una colonia può essere portata avanti in cattività. Quindi abbiamo le formiche regine che vengono mantenute in fase di fondazione e in provetta. E poi via via successivamente vengono passate in formicai sempre più complessi man mano che la colonia cresce. Da alcuni anni viene abbinata alla manifestazione Entomodena una seconda manifestazione che però ha carattere esclusivamente divulgativo, didattico. Qua stiamo facendo fare dei giochi ai bambini. Vengono forniti dei palmari e osservando i particolari dell'animale, quindi le antenne, le zampe, le ali, passo dopo passo appunto in modo dicotomico, quindi scartando alcune opzioni e invece accettandone altre, arrivando piano piano a identificare la specie di insetto in questione. Si svolgono piccole mostre appunto di carattere didattico, abbiamo sei laboratori che aiutano i bambini a riconoscere gli insetti, a capirne le abitudini, a riconoscerli e anche a manipolarli perché molto spesso si pensa che gli insetti siano sporchi o velenosi o qualcosa di simile, in realtà tranne alcune specie sono completamente innocui. Questa è un'importantissima occasione per i ricercatori che studiano magari gruppi di insetti rari, poco comuni, che hanno modo di trovare insetti in grande quantità, molto strani, poco studiati e possono raccogliere molto materiale per i loro studi. Questo è molto importante perché gli insetti sono animali fondamentali per l'economia del pianeta, però è molto difficile studiarli, bisogna raccoglierli con certe tecniche, in certi posti, in certi momenti dell'anno e questo spesso non è possibile, quindi averli qui a disposizione è sicuramente una grandissima risorsa per conoscerli meglio, per studiarli e in qualche modo anche per tutelare quella che è la loro biodiversità, che è uno dei fattori chiave sia della loro sopravvivenza su questo pianeta sia della nostra. Grazie.